Nel video precedente ti ho parlato di come trovare i soldi con il contratto di associazione in partecipazione però abbiamo visto che è un contratto che è previsto per chi ha già una parte e va quindi facevo l'esempio di agenti o geometri professionisti di questo tipo per chi ha già una posizione fiscale societaria ha la possibilità di usare questi contratti che è quello che utilizziamo anche noi però se tu sei un privato come fai a ottenere del denaro andando magari da amici e parenti? La formula che viene maggiormente utilizzata è quella di fargli intestare la casa ovviamente quindi non ci sono altre soluzioni la problematica che potresti avere facendo intestare la casa quindi a più persone è quella di non vederti pagato poi il tuo guadagno successivamente quindi la cosa che ti consiglio è ovviamente se tu hai proprio zero nemmeno un euro ovviamente ti devi fidare e se tu non ti fidi dei tuoi investitori comunque c'è un problema di base e non ti consiglio di fare investimenti con loro perché il rapporto che ci deve essere tra investitore e gestore dell'investimento deve essere di totale fiducia di controllo sì ma di totale fiducia tu non godi della fiducia nei loro confronti non potrà essere un rapporto sereno e continuativo quindi tu ti devi fidare di loro detto questo nel farlo ci sono comunque delle modalità che possono essere interessanti ad esempio se tu stai comprando per 100 mila euro e scegli perché puoi mettere soltanto 10 mila euro ok ti intesterai la casa per un decimo non è un problema e quando ci sarà da rivendere comunque ci sarà una diversa gestione perché tu avrai amministrato il capitale quindi farete 50 per 50 sul capitale ovviamente quindi se tu generi il 30% da questo investimento tu andrai a prendere la magari la metà del capitale che hai messo più la metà del capitale che hai fatto gestire ok questa solitamente è una divisione che funziona però ti consiglio di metterti direttamente anche tu come quattro proprietario per rendere più comodo la gestione successivamente alla vendita perché se tu metti zero e fai intesare tutto all'altro la difficoltà sta nel far uscire i soldi dal suo patrimonio per farli entrare nel tuo in maniera fiscalmente corretta e gestibile senza nessun tipo di problematica quindi a prescindere dal fatto che ti devi fidare che lui te li dia, capisci? spero di essere stato chiaro, non sono sicuro che sia un aspetto semplice da spiegare e di averlo fatto bene per favore dimmelo nei commenti se sono stato chiaro, dimmi com'è la tua esperienza e iscriviti al canale ciao